Musica Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come sempre sono il vostro Darkhouse92 E oggi siamo in compagnia di un nuovo amico Conosciuto così mentre giocavo a salvo il mondo per formare un po' di V-Buck Lord Biru... no Lord Iborius Ok Questo qui ragazzi come potete vedere è il mondo di Lord Liborius Cosa succede in questo mondo? Una roba spaziale assurda Perché praticamente adesso vi faremo vedere io e lui Andiamo direttamente all'inizio per farvi vedere come funziona Allora eccoci qua ragazzi Come ovviamente vi ho detto all'inizio vi farò vedere appunto Questa cosa spaziale assurda alla velocità della luce Perché io non capisco dove sto andando quindi pensa un po' E ragazzi ha fatto un lavoro assurdo Infatti nei commenti Hashtag Grande Lavoro Lord Liborius Nei commenti io voglio scritto questo mi raccomando Ok Andiamo Andiamo Vai Via Qui ovviamente si ferma Andiamo avanti Andiamo avanti ecco qui Molto avanti Boom Ragazzi va bene Comunque qua poi sarà chiuso Comunque non è del tutto finito Però ragazzi è davvero una figata assurda Ragazzi è davvero una figata assurda Comunque il video è di pochi minuti Però comunque c'è da capire anche che c'è molto lavoro Sopra questa struttura che ha fatto ovviamente Lord Liborius Io più o meno ragazzi Cosa? Che grazie a te Non dimentichiamo che metà dei muri l'hai fatti tu No eh metà dei muri Gli ho dato qualche potenziamento E quella struttura che vedete lì Più o meno l'ho potenziata E lui poi l'ha sistemata un po' come 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 c'è da fare ovviamente Comunque ragazzi Se volete Ecco il boom proprio che in questo momento dirò Se volete fare un giro Nel Nel parco giochi Dei pazzi spaziali e immaginabili possibili Basta che arriviamo a 500 Lo so che sono un pazzo Probabilmente non ci arrivino mai Però Se condividete ci arriviamo Se arriviamo a 500 like Prenderemo nei commenti Due persone Che voi ovviamente nei commenti dovete scrivere il vostro Il vostro nick di Fortnite Così che io stesso vi aggiungo E voi giornate da me e vi faremo fare un giro Mentre faremo una registrazione con voi Nel giro Delle follie spaziali Che ci sono in questo mondo Ragazzi Io e Lord Liborius Oh Ogni volta ti chiamo Lord Beerus Guarda non mi offendo Io e Lord Liborius Vi ringraziamo per la visione Ringrazio anche Lord Liborius Che mi ha permesso di fare questo video Che è la mia E niente ragazzi Noi ci vediamo alla prossima Bella Bella Ciao